eccoci in diretta con le nostre pillole di vita speranza e futuro oggi parliamo di famiglia con Gigi De Palo presidente nazionale del forum delle associazioni familiari ciao Gigi, ciao marito papà di cinque bambini e professore di formazione spirituale della leadership e dopo ci darà anche due parole su questo ma oggi parliamo di famiglia abbiamo messo delle frasi anche quando abbiamo lanciato questa iniziativa la famiglia è la prima cellula essenziale della società umana questo lo è perché così è e ce ne siamo accorti in questo periodo in questo periodo ovviamente molto difficile per tutti dove siamo stati messi tutti quanti alla prova la paura l'incertezza e tante cose sono cambiate in questo periodo però è rimasto qualche cosa di certo qualcosa su cui di fatto ci siamo tutti affidati che sono appunto le le nostre famiglie sono diventate il luogo del tutto del lavoro della scuola delle amicizie della condivisione più totale e quindi abbiamo fatto un'esperienza tutti quanti molto molto forte e quindi vorrei iniziare con Gigi proprio da questo cioè la la famiglia al tempo del coronavirus la famiglia in ma la famiglia di Gigi una famiglia come tante altre grande difficoltà legata al numero dei figli che sono diciamo anche direttamente collegato poi ai metri quadrati perché dici sai un conto è c'hai cinque figli e c'è una villa un conto è cinque figli noi abbiamo una casa comunque abbastanza grande ringraziando Dio però comunque non è facile anche perché ogni mattina le le lezioni partono è una delle difficoltà più grandi che poi magari approfondiamo perché il tema è anche diciamo dal punto di vista economico e di giustizia sociale è il fatto che con cinque figli quattro vanno a scuola uno è piccolino però devi avere comunque quattro device per poter fare lezioni e poi le difficoltà del condividere gli spazi del non poter uscire quindi un po' di nervosismo perché un po' comunque uscire anche una valvola di sfogo incontrare gli altri quindi insomma le famiglie hanno vissuto e stanno vivendo situazioni anche particolari non piccole ma ecco non da non banalizzare perché comunque sono sono stati mesi poi in Lombardia immagino qualche pericolo ancora di più no perché 15 giorni in più ci avete avuto mesi mesi molto molto importanti molto difficili ma che hanno comunque anche portato no dei dei cambiamenti non solo negativi all'interno delle famiglie esatto esatto però eh vogliamo anche parlare di questo cioè perché eh anche delle preoccupazioni e della forza con la quale hanno affrontato appunto questo periodo preoccupazioni tante soprattutto noi abbiamo avuto abbiamo voluto dedicare con i bambini innanzitutto organizzare la giornata in modo tale da non non sbaccare ecco non so se rende il termine ma rende cioè nel senso non eh diventare eh persone che non si lavano non si vestono non rifanno il letto non si fanno la barba no abbiamo cercato di mettere dei paletti molto chiari perché è determinante ed è importante mantenere alta l'attenzione verso questo punto di vista e oltre a tutti i paletti e le organizzativi che abbiamo messo ne abbiamo messo uno del quale siamo sempre più convinti che è stato quello di eh una ventina di minuti al giorno pensare riflettere pregare eh fare un momento di anche di raccoglimento verso tutte quelle persone che stavano vivendo e che stanno vivendo aggiungo sulla loro pelle una situazione molto grave molto tosta perché è vero che noi qui io sono di Roma quindi a Roma abbiamo vissuto una situazione dai racconti non l'abbiamo vista o toccata con mano come posso immaginare nelle zone di Bergamo e Brescia in particolar modo però ecco è fondamentale ed è anche importante mantenere alta l'attenzione sul fatto che siamo un'unica famiglia umana e che non è che noi stiamo bene stiamo a casa facciamoci il nostro no il nostro decamerone personale facciamoci la nostra comunità e chi se ne frega degli altri no è stato importante ed è importante mantenere alta anche l'attenzione per questo ho voluto proprio con insistenza con i bambini che ci fossero venti minuti al giorno per pensare a quello che stava accadendo leggere le notizie perché siamo comunque collegati se sta male un pezzo non solo del nostro paese ma dico proprio del mondo non possiamo stare bene anche noi al cento per cento certo c'è qualcuno che sottolinea che quando hai detto non sbaccare rende benissimo l'idea della vita quotidiana e della non mi veniva un'altra frase non mi veniva un'altra frase ce l'hanno subito sottolineato comunque va benissimo e hai fatto un accenno alla scuola perché appunto il trasferimento fra virgolette della scuola nelle in casa nella famiglia è stato una qualche cosa sicuramente estremamente forte e questo è un punto che secondo me va affrontato affrontato per l'oggi per quello che è stato ma anche per quello che sarà visto che la situazione della scuola ce la porteremo dietro probabilmente ancora per tanto questo per quanto riguarda i bambini piccoli ma anche per quanto riguarda i ragazzini e questo credo che sia un punto sul quale ragionare per l'oggi e anche per il domani sì nel senso per l'oggi va bene in questa fase emergenziale fare i salti mortali ci sta perché li stiamo facendo tutti li stanno facendo i professori li stanno facendo i presidi li stanno facendo permettimi di dirlo anche le scuole paritarie che sono comunque servizio pubblico eppure sono state messe in secondo piano e abbandonate ho avuto telefonate anche con la comunità ebraica e altre realtà che stanno vivendo le stesse difficoltà no però diciamocelo forse qualcosa in più poteva essere fatta utilizzando la televisione noi abbiamo una televisione di stato che ha tanti canali ormai no poi non sono più solo ore 1 ore 2 ore 3 ma hai tanta disponibilità mi è piaciuto molto quello che ha fatto la telecom con il progetto maestri d'italia dove ha preso degli spazi ha valorizzato ha messo delle figure del mondo diciamo della cultura italiana e le ha messe a dire a raccontare a fare delle lezioni a cui anche i ragazzi potessero poi attingere forse avrei valorizzato un pochino più la televisione perché non è stata utilizzata come avremmo dovuto e quindi si è creato quello che McLuhan chiamava il digital divide dal punto di vista del nord e sud del mondo noi abbiamo vissuto un digital divide diciamo anzi forse un vabbè troppo complicato tra famiglie con tanti figli e famiglie con pochi figli famiglie ricche e famiglie povere cioè non tutti hanno 3 4 device a disposizione quindi c'è stata una discriminazione perché noi sempre abbiamo dovuto far fare ad alcuni figli la scuola la mattina ad altri cercando di recuperare nel pomeriggio perché perché abbiamo due computer uno ci lavoro io uno mia moglie abbiamo rimediato un portatile dai nonni sotto banco avevamo un ipad però non tutti potevano appunto avere quindi questo è stato anche un altro grande problema senza contare che come fai a lavorare con un figlio che sta facendo lezioni che deve essere comunque avviato cioè anche qui se non c'erano le famiglie che stavano dietro ai bambini dietro ai ragazzi che gli facevano l'accesso a alle lezioni a distanza che gli fornivano il materiale che quando andava in down la la rete erano pronte lì a risolvere non si poteva fare però se tu fai quello non puoi lavorare io ho mia moglie che si è dedicata molto di più di me perché avevo più impegni non per che aveva delle scadenze un pochino più a lungo termine lei dice la dad che è la didattica no a distanza ha solo il nome dad dovevano chiamarlo la mamma perché di fatto sono sono stato molto più le mamme a seguire questa questa dinamica lei scherzando lo dice però ecco senza la famiglia anche la scuola non sarebbe stata possibile verissimo è verissimo è anche molto chiaro come l'hai giustamente descritta anche questa cosa della mamma mad è molto molto carina ma questa è di mia moglie io uscito uscito lei è in famiglia quindi però questo questo fa pensare anche che siccome il futuro è questo cioè che bisogna sostenere cioè come adesso si sta giustamente facendo tanto per cercare di trovare un sostegno al lavoro alle imprese perché se non c'è quello che sappiamo tutti che cosa potrà succedere però ci vuole anche un sostegno alle famiglie perché queste sono state sono il fulcro o come dice come abbiamo sempre scritto se la famiglia va va anche la nazione e va al mondo intero in cui viviamo questo è giovanni paolo secondo che lo diceva come secondo te cosa bisogna fare cioè cos'è il sostegno alle famiglie allora innanzitutto non darle per scontate quello che stiamo vivendo è io ho parlato anche col presidente Conte lunedì scorso abbiamo chiesto un incontro e abbiamo avuto questo incontro dici qualcosa no ma sono una bellissima persona cioè non il problema è che si parte da diciamo da da una visione più assistenzialista rispetto a una visione sussidiaria mentre invece noi portiamo avanti una visione sussidiaria e tra l'altro una sussidiarità non invertita cioè noi siamo convinti che lo Stato debba subentrare laddove non arrivano le famiglie il comune deve subentrare dove non arriva la famiglia mentre invece qua la situazione è opposta cioè dove non arriva lo Stato la famiglia supplisce con le sue risorse il suo impegno il suo welfare e tutto guarda così le famiglie vengono vengono schiacciate non ce la facciamo allora c'è proprio un cambio di mentalità ecco la mia la mia paura grande è proprio che c'è una visione più culturale che è una visione totalmente invertita rispetto a quella che io su cui mi sono formato io e su cui sono convinto sia il bene dell'Italia perché è aiutando le famiglie che tu aiuti le imprese noi abbiamo visto che il primo il cura Italia 25 miliardi adesso gli altri 50 miliardi del decreto di maggio ci fosse una misura una diretta alle famiglie sì c'è il bonus babysitter sì ma è tutto finalizzato a che cosa al lavoro delle famiglie sì però c'è il congetto parentale idem sì però ci sono i 600 euro allora o diamo risorse fresche alle famiglie nelle tasche senza complicazioni come è avvenuto tra l'altro in Germania e anche negli Stati Uniti si parla tanto di helicopter money ma senza andare a scomodare visioni diciamo fantascientifiche da noi si tratta semplicemente mettere le famiglie nelle condizioni di avere risorse tenendo presente che molti dei papà e delle mamme non possono andare a lavorare perché sono partite IVA la prima causa di povertà in Italia è la perdita del lavoro di un di un membro della famiglia la seconda causa di povertà è la nascita di un figlio o la composizione familiare cioè la presenza di più figli ci sono delle famiglie oggi in Italia che non hanno fatto non hanno detto a nel silenzio più assoluto che hanno fatto il loro dovere nel silenzio dei loro appartamenti che stanno vivendo queste due cose insieme la prima non possono andare a lavorare perché magari sono partite IVA quindi non riescono a uscire di casa la seconda in presenza di un numero di figli superiore a due vanno e rischiano molto di più perché poi devono anche portare a casa risorse per far mangiare i figli domanda ma i mutui si sono fermati no ma la bolletta del telefono è stata condonata questo mese no che mi risulti ma Sky ha smesso di mandare la bolletta o semmai ti regala uno o due film così allora dobbiamo renderci conto che è aiutando le famiglie che aiuti il paese perché il turismo che era l'altro grosso petrolio del paese è crollato in due giorni in tre giorni la famiglia è il petrolio su cui insistere perché ci sta facendo risparmiare allora io oggi abbiamo fatto un comunicato anche molto duro come forum però cioè solo perché le famiglie non possono scioperare non scioperano perché se non sciopererebbero ma bisogna per forza alzare la voce in malo modo per avere attenzioni non per chiedere lemosina non per chiedere soldi ma per essere messe nelle condizioni di aiutare il paese con più serenità non sciopero però domenica mi sembra c'è stata una sorta di manifestazione chiamiamola così sui balconi che avete proprio indetto voi abbiamo voluto fare un visto che non ci ringrazia nessuno abbiamo ringraziato giustamente i medici abbiamo ringraziato giustamente gli infermieri forse dovremmo ringraziare giustamente anche coloro i quali stanno portando il peso di tutta questa pandemia nel silenzio appunto dei loro appartamenti forse dovremmo ringraziare i nostri figli che dal giorno alla notte hanno smesso di uscire di casa e non hanno fatto storie sì hanno rotto qualche noi ci hanno rotto una farfallina un pupazzetto una cornice ma chi se ne frega ben venga forse dobbiamo ringraziare anche le nostre mogli i nostri mariti che comunque nonostante le difficoltà hanno cercato di mantenere il buon umore e di offrire delle chiavi di lettura nuove educative anche ai figli allora visto che nessuno ha fatto questo domenica siamo usciti fuori ai balconi la cosa molto bella è che ci hanno seguito pure le campane di molte parroche di molte diocesi quindi c'è stata una volontà di ringraziarsi perché siamo convinti che la fase 2 è appena iniziata ma non è finita nulla la pandemia c'è ancora da stare attenti però ecco che tenendo presente che le motivazioni stanno venendo meno c'è bisogno anche di una consapevolezza nuova perché le famiglie hanno dimostrato che il bene comune non è la somma degli interessi particolari hanno dimostrato che rinunciando ciascuno al proprio interesse hanno potuto lavorare per il bene comune perché se stanno diminuendo i contagi e anche perché le famiglie italiane sono state lo dico con dei dati certi le migliori al mondo certo 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 vero anche questo molto vero anche questo sulla responsabilità che dici che c'è stata delle famiglie in particolar modo è molto significativo e l'hanno sottolineato diversi fra l'altro che stanno scrivendo io sento un ritorno non so perché e volevo dirti un'altra cosa che si è collegata con noi adesso anche la presidente nazionale delle ostetriche che ci ricorda che oggi è la giornata nazionale delle ostetriche e quindi ti fa un saluto particolare e e oltre a salutarti però ti dico questo ne approfitto per dire un altro tema c'è quello delle nascite noi sappiamo che Europa Italia c'è un caldo delle nascite e anche questo è un tema caldissimo perché ne va del nostro futuro c'è il sostegno proprio alle nascite sostegno alle famiglie nel stesso proprio delle nascite questo avete fatto delle azioni hai in mente qualche cosa diciamo che è un po' un nostro cavallo di battaglia quello della denatalità perché perché siamo convinti che è un principio non negoziabile cioè meno bambini uguale niente pensioni uguale niente welfare uguale sanità al collasso noi oggi stiamo vedendo concretamente quello che accadrà tra qualche anno oggi lo stiamo vedendo per il coronavirus tra qualche anno avverrà perché ci sarà un crollo della sanità perché quando gli anziani non autosufficienti diventeranno due milioni e mezzo in più rispetto a quanti sono oggi e quando diminuiranno i giovani e quindi diminuirà la forza lavoro inevitabilmente la sanità avrà ulteriori contrazioni cioè è inutile che adesso facciamo tutti abbiamo tagliato i fondi tra un po' non ci saranno manco questi di fondi perché ci saranno sempre meno bambini sempre meno forza lavoro e quindi sarà più la popolazione anziana rispetto a quella giovane allora non so se avete visto il dato abbiamo quest'anno scenderemo già ci sono le proiezioni sotto i 400 mila nati che era un dato che avremmo raggiunto nel duemila trentadue siamo in dodici anni di anticipo rispetto al duemila trentadue in più in anticipo in più avete visto che quest'anno avete visto i dati anche questi usciti ieri abbiamo il 50 per cento dei morti in più rispetto allo scorso anno che cosa vuol dire questo vuol dire che se l'anno scorso il saldo tra i nuovi nati e morti era di meno circa 200 mila quest'anno sarà molto molto peggio se l'anno scorso perdevamo così d'amblè una città come reggio emilia chissà quale città perderemo il prossimo anno allora tutto questo è veramente complicato tutto questo non è scontato non è non è qualcosa su cui non si può riflettere tutto questo deve avere una attenzione politica quello che io vedo è che la politica gestisce il presente come il vigilo urbano gestisce il traffico mentre invece dovrebbe avere una visione di futuro dovrebbe avere un sapore di futuro un respiro ampio un occhio lungo mentre invece è tutto quanto appiattito sul presente tutto quanto appiattito su le prossime elezioni prossimi cinque anni il mio consenso e tra l'altro la cosa che sto vedendo è che il protagonismo di molti ministri non fa che generare una confusione enorme le persone non comprendono e in più si sta percependo qualcosa dove a me scrivono le persone mi dicono ho visto che già hanno fatto tutte queste misure per le famiglie perché perché il dire sembra essere il fare già fatto no faccio un comunicato facciamo questo faremo questo quindi l'ho fatto questo è molto grave allora la natalità è qualcosa su cui non le associazioni come il forum a tutti dovremmo essere preoccupati le aziende no che oggi insistono e c'hanno i tavoli i sindacati che sono degli stakeholder importanti del paese su cui non ho mai sentito parlare di natalità dovrebbero essere preoccupati tanto quanto il forum delle associazioni familiari ci hai lanciato veramente dei messaggi fortissimi anche con dei numeri molto forti salutiamo però visto che siamo qua appunto le ostetriche ringraziamoli per quello che hanno fatto anche in questo periodo scusa no no questo alle ostetriche alla giornata mondiale delle ostetriche perché senza le ostetriche io poi le conosco bene cinque figli quindi diciamo che ancora mi sento con un paio di queste ostetriche perché comunque sono persone con le quali rimani in contatto certo e poi ci hanno dato la speranza perché anche in questo periodo tanti bambini sono nati negli ospedali proprio dove si combatteva soprattutto al nord questa battaglia terribile nascevano bambini e le ostetriche permettevano appunto questo quindi è un altro volto della speranza che in questo periodo qua hai fatto prima un accenno che vorrei riprendere che lo prendo da un proverbio in questo caso un proverbio cinese una famiglia che ha presso di sé un anziano ha presso di sé il più bello degli ornamenti e il più prezioso dei tesori vorrei che parlassimo un attimo proprio anche di questo dei noni degli anziani del ruolo fondamentale che non è le famiglie e anche questo c'è anche qui ci sarebbe da parlare di politica di aiuto tu qui mi fai commuovere perché io in questi giorni purtroppo non per il covid ma ho perso mia nonna 28 anni d'amore non nada mi è morta tra le braccia come mio nonno tra l'altro momento bellissimo anche se durissimo e io dico che ho compreso cos'è l'amore dai nonni da mia nonna una generazione un'altra generazione cioè i nonni sono quelli che rinunciano a tutta la loro vita per venire a casa tua quando c'è la febbre da bambino perché i genitori devono andare a lavorare che è un po' quello che manca oggi perché oggi questi nonni non possono fare questo perché rischiano anche quindi abbiamo una situazione paradossale in base alla quale i genitori andranno a lavorare le scuole sono chiuse non per un giorno ma fino a settembre e i nonni non possono svolgere quel ruolo di welfare di secondo livello che svolgevano prima vedo che nonni oggi aiutano magari con qualche allungando 100 euro per la spesa visto che comunque non ci si incontra ecco questa è la è la è la bellezza del paese questa è la forza di questo paese cioè il fatto che non ci si lascia soli il fatto che c'è questa solidarietà guardate che non è scontato eh che gira il mondo e io un pochino lo giravo adesso un po' di meno coi figli però conosco tante persone non è automatico questo legame tra le generazioni questa solidarietà intergenerazionale allora invece di valorizzarla invece di no metterla nella con delle condizioni di aiutare anche il paese a risparmiare risorse noi invece la stiamo mettendo a dura prova e oggi i nonni sono quelli che stanno vivendo io dico stanno meglio i nonni che la famiglia in questa fase perché comunque il nonno non può uscire da casa però un po' c'ha la pensione un po' tutelato le famiglie oggi questi questi due mesi sono stati tremendi perché non potendo uscire ma occupandosi di tutte le cose che ci siamo detti è tosta eh è tosta è tosta sì tu hai detto che ti sei commosso per per tua nonna mi spiace di quello che è vissuto noi qui è la vita ma noi qui a nord abbiamo vissuto un dramma una ferita che sarà difficilmente rimarginabile cioè la morte di così di tantissimi anziani e questo è una ferita enorme che ci portiamo dentro di cui le cause adesso non possiamo discutere si sarà da vedere su che cosa è successo però quello che è successo che una generazione se n'è andata quello che è successo ci siamo accorti che oltre alla fragilità di cui tutti noi ci siamo accorti è nostra è la fragilità dei nostri anziani una fragilità immensa e forse anche e non solo forse anche un abbandono perché sennò questo probabilmente non sarebbe successo e questo è un altro tema appunto molto molto critico io ho sempre vissuto con mia nonna quando è morto mio nonno ma già perché che morisse mio nonno loro abitavano a casa nostra perché perché era bello così perché era giusto così non c'è mai venuto in mente lo dico ma poi dipende ogni ogni sto ogni famiglia una storia a sé ogni situazione è diversa le altre io ho sempre detto e spero che i miei figli la penseranno così anche loro però non non avrei mai potuto pensare di mettere in una casa da sola una persona che aveva dedicato e ha dedicato tante tante ore e tanto amore a me quando ero bambino una seconda madre davvero lei ha dato la vita per me ci mancherebbe altro che adesso no che che sta un po' più in difficoltà c'era 98 anni no noi la la mettessimo in una in una struttura è difficile io credo che lì è successo qualcosa di di particolarmente appunto dici te giustamente sospendiamo il giudizio perché non si sa situazione comunque molto complicata è uscito un articolo molto interessante di massimiliano calvi su avvenire che diceva che paradossalmente questo welfare di secondo livello questo welfare che fa rispagnare che di solidarietà intergenerazionale è stato anche causa no un po' di questo di questo contagio cioè il fatto del dello stare del passare molto tempo nonni e nipoti genitori nonni e nipoti sicuramente rispetto ad altri paesi ha creato no una facilità di contagio da una parte questo dall'altra però c'è stata anche una rete che ha saputo supplire a tutto questo perché insomma io l'ho visti i coetanei che portano portavano e si accudivano i loro genitori ancora oggi vanno a fare la spesa ai nonni ci chiedono di ritornare sull'argomento scuola cioè nel senso proprio come secondo te deve può ripartire la scuola considerando già quello che hai detto sul ruolo che hanno avuto le famiglie ma ma che hanno avuto supplendo dire vero innanzitutto non dicendo stupidaggini in televisione fondamentale cioè protagonismo dei ministri sta facendo più danni di qualsiasi altra cosa io non sono non sono uno tranchant però ti assicuro che io mi occupo di formazione alla dimensione spirituale della leadership lo dicevamo prima no ah sì dire a un figlio ad aprile tutti i promossi non è il massimo dal punto di vista educativo e di no mettere degli obiettivi da raggiungere perché perché tu puoi anche motivarlo e dire guarda sì però cioè un traguardo devi metterlo per arrivare in montagna il desiderio di vedere il panorama ci deve essere cioè non non camminiamo solo per camminare il desiderio di di un paradiso di una meta ce la dobbiamo avere dire a un ragazzo tutti i promossi se rinizia a settembre ad aprile glielo dici non so quanto sia buono ed importante e utile educativamente questa è una cosa l'altra cosa è ho sentito dire lezioni prima uno poi l'altro io dico ma è così tanto difficile fare una cooperazione di questo tipo invece di fare task force no il ministro chiama la componente studenti la componente genitori la componente dirigenti scolastici la componente docenti si chiudono una settimana dentro il ministero con le mascherine una settimana dopo arrivano con una proposta che è condivisa da tutti che nessuno potrà sbugiardare sì ci sarà qualcuno che dice sì però però intanto tutte le componenti hanno provato a renderla no fattibile si sono immedesimati hanno provato a trasformarla in concretezza no non scende dall'alto e si porta avanti questa proposta abbiamo tre mesi di tempo per attuarla con buona pace del comitato scientifico io ad esempio sono uno di quelli che il comitato scientifico è ma deve parlare al presidente conti ai ministri non deve farci le conferenze a noi a me che che il virologo mi dice che cosa devo fare mi spaventa il virologo mi virologo deve dare deve fare una consulenza al politico e il politico poi deve prendere delle decisioni in base alle indicazioni che gli ha dato il virologo non si può che il virologo mi dice cosa devo fare e cosa non devo fare il virologo deve dare no indicazioni la politica poi deve trovare perché è chiaro che ci sarà in futuro un rischio il rischio ci sarà non è che da qualche parte dovremmo cercare di capire quanto rischiare e soprattutto non è che le famiglie sono sceme non è che se domani tu apri scuola io porto mio figlio a scuola io che magari ho mia moglie che lavora da casa io pure posso barcaminarmi sto a casa allora cercare di fare una un ragionamento di questo tipo che è quello che farebbe chiunque in un'associazione io vengo dall' associazionismo ci mancherebbe altro che io vado senza ascoltare nessuno e dico ai giornali cosa voglio fare quella è la mia opinione e va bene rispettabile ma non è l'opinione del mi c'è non è la linea guida del ministero è fondamentale creare dei tavoli in base al quale si condividono delle proposte e lì diventano assolutamente no blindate quindi abbiamo tre mesi di tempo io credo abbiamo una decina di giorni per fare una proposta seria e poi abbiamo tre mesi di tempo per attuarla e per concretizzarla che non è detto che la proposta che ha fatto la ministra Azzolina sia sbagliata però se tutti si sono arrabbiati vuol dire che non è stata condivisa quindi di per sé è sbagliato e certamente non è stata capito è vero c'è questi si passa dal protagonismo che dici alla di responsabilizzazione cioè anche questo fioriere di task force di comitati tecnici scientifici di super tecnici che aiutano ma c'è qualcuno deve decidere e allora aiutati che deve decidere ma chi deve decidere decida non può decidere qualcun altro non può essere questa commissione che poi nessuno fa sintesi e quello che tutti hanno avuto questa impressione invece quello hai ragione c'è uno parla col virologo uno parla con quell'altro poi parla il primo ministro poi parla un altro ministro e allora la sintesi dov'è c'è chi chi prende le decisioni per il bene di chi e questo è molto è vero che è molto fatticoso questo aspetto della del diciamo di un approccio difensivo della politica purtroppo in italia lo abbiamo in tanti campi prima abbiamo detto le ostetiche io ho degli amici ginecologi un'amica ginecologa che lei quasi la maggior parte dello stipendio che guadagna lo mette nella situazione perché perché ogni giorno ogni anno ogni giorno ogni anno qualcuno denuncia perché perché c'è un problema perché il bambino che tu hai fatto nascere mi avevi detto che era così invece ecco allora che succede succede che te medico hai paura e quindi non prendi decisioni fai fare un'ulteriore visita questo che cosa che cosa va a fare va a creare che cosa aumenta il costo del sistema sanitario perché aumentano tante volte visite non solo il lavoro del medico il medico è un artigiano cioè è uno che deve cogliere la situazione deve trovare soluzioni non deve rimandare a un altro medico perché attivanti perdendo del tempo tu si stai parato perché comunque fatto tutto quello che dovevi fare però magari la persona la stiamo perdendo cioè questo approccio difensivo ce l'abbiamo in tanti campi in politica diventa quello che stiamo vivendo cioè sentiamo il comitato tecnico scientifico comitato tecnico scientifico non ti dirà mai osiamo perché perché vuole pararsi anche lui e quindi ti dirà aspettiamo partiamo tra sei mesi perché perché non ha una visione d'insieme ha una visione da virologo ha una visione da comitato tecnico scientifico allora benvengano gli scienziati ma se manca la politica manca tutto c'è un altro amico che ci saluta che è il presidente dell'istituto dei ciechi di milano è anche nazionale rodolfo masto che ci saluta ci ricorda anche che c'è un mondo il mondo delle fragilità delle tante fragilità che ci sono e che in questo periodo sono state come tante cose trascurate e ributtate alla famiglia alle famiglie per chi ce l'aveva per fortuna a dire il vero e anche su questo c'è tutto un tema di sostegno di sussidiarietà che è difficilissimo beh io ho un figlio disabile un figlio l'ultimo giorgio maria con la sindrome di dao e ieri con mia moglie stavo un attimo in difficoltà perché abbiamo visto in questi due mesi è un pochino tornato indietro perché lui ancora non cammina due anni stava iniziando non dico a camminare ma a fare delle piccole cose facendo fisioterapia due volte a settimana non potendo fare fisioterapia facendola comunque con mia moglie con delle fisiate bravissie che ci mandano ci seguono su skype o su whatsapp però tu vedi che un figlio regredisce e questo fa male allora anche qui si è parlato di voucher babysitter facciamo dei voucher pure per l'assistenza domiciliare un modo per ripartire almeno lì con le mascherine con i distanziamenti ma facciamo in modo tale che i bambini i ragazzi gli adulti disabili possano fare diciamo la loro terapia il prima possibile perché tornare indietro cioè camminare fare un passo per un disabile pensa a mio figlio no una camminata di mio figlio un passo di mio figlio è un traguardo tornare indietro è una sconfitta e le mamme soprattutto io perché mia moglie sta seguendo questa cosa più di me no le mamme perché hanno questo dirigere no però perché nel nella nostra famiglia e mia moglie che avendo più tempo specifico da dedicare figli che abbiamo fatto insieme ci dedica più tempo anche qui tu vedi la passione vedi vedi il fatto che oltre a fare i maestri tecnici informatici abbiamo fatto anche i fisioterapisti abbiamo un figlio che c'ha un un dente gonfio abbiamo fatto i dentisti cioè tutto questo ma non è gratis cioè quanto costa questo bisognerebbe quantificarlo per noi è costato energia preoccupazione vai a comprare la medicina fai prendi il bisturi e fai un taglietto come ti ha detto il dentista fai gli sciacqui con cioè tante cose per questo anche i disabili li aiuti aiutando le famiglie grazie qualcuno sta scrivendo che noi abbiamo fatto tante di queste pillole di vita speranza e futuro e questo è sicuramente una delle più belle anche perché ci porta in tutto il mondo perché come tu ci stai raccontando della tua famiglia e la fatica di tutte le famiglie e la fatica di tutti quindi ci riporti nel mondo che è diventato il mondo nostro questo con lo sguardo che tu ci stai dicendo è troppo buono marcello sì ma ti conosce ascolta e hai detto prima una cosa che mi ha incuriosito e che vorrei che riprendesse qualche parola formazione spirituale della della leadership sì sei un formatore spirituale della leadership fantastico una cosa un po' particolare no ma te la spiego allora io nella mia vita volevo fare il giornalista che si occupava di temi legati al sud del mondo e per un periodo l'ho fatto poi però diciamo la vita la fantasia della vita mi ha portato a fare altre cose quindi mi sono ritrovato sin da molto giovane a svolgere dei ruoli di primo piano quindi sono stato subito a 25 anni presidente delle ACLI di Roma e le ACLI di Roma sono in realtà con 40.000 tesserati quindi 20 sedi di patronato di CAF responsabilità grosse dal punto di vista del pagare stipendi cose poi sono stato presidente del forum del Lazio forum delle famiglie del Lazio presidente del patronato delle ACLI del sempre di Roma poi sono stato assessore al comune di Roma alla scuola alla famiglia giovani poi adesso presidente nazionale del forum delle famiglie a livello nazionale cioè io ho avuto sempre ma veramente poi mia moglie ve lo può raccontare senza mai cercarlo perché io ancora ci sogno io ancora desidero fare il giornalista che si occupa di temi del sud del mondo mi sono trovata a svolgere i ruoli di leader ma veramente senza volerlo e allora questo qua è diventato anche un'occasione di riflessione ma perché tutto questo poi vedo che ogni tanto all'epoca ma anche adesso le persone mi chiedevano consigli e allora ho elaborato un percorso che faccio nelle aziende faccio alle singole persone faccio nelle scuole faccio a professori faccio ieri ho fatto un corso agli studenti di un master della LUIS così su un tema particolare che è fondamentalmente una leadership etica la dimensione spirituale perché perché lì si gioca tanto del futuro del nostro paese e del mondo perché oggi vengono fatti percorsi di leadership in tutti gli uffici e tutti questi percorsi mettono al centro un concetto chiave se tu sei un buon leader raggiungi i tuoi obiettivi ma è vero no dipende dipende dall'obiettivo cioè pure hitler voleva raggiungere i suoi obiettivi però non erano obiettivi positivi cioè ci sono obiettivi positivi e negativi e poi l'altro che cos'è è un mezzo o un fine anche qui cambia tutto perché in molti percorsi l'altro è il mezzo attraverso il quale tu riesci a costruire quel qualcosa per diventare per crescere anche a livello lavorativo ecco la dimensione spirituale della leadership la leadership etica che io teorizzo e che insegno rompe questi schemi parte dalle debolezze parte dalle fragilità parte da dal fatto che tutti lo possono essere basta volerlo ma soprattutto che ciascuno di noi ha una leadership ma che non tutti vivono da leader la leadership che hanno ecco questo è un po il centro e questo se tu lo applica la politica alla famiglia alle aziende è rivoluzionario perché perché se le leadership come sono state formate fino ad oggi andasse tutto bene perché il mondo va male perché c'è uno squilibrio nord e sud del mondo perché la gente non è felice perché se la leadership chi prende le decisioni no è stato formato bene c'è un inquinamento che fa paura perché ci sono grandi problemi e squilibri in questo mondo ecco mo te l'ho fatta una pillolina queste cose per chi vuole ho iniziato a scrivere su un sito che è www.nuovaleadership.it per chi vuole l'ho iniziato proprio pochi giorni fa in questo tempo sto approfondendo perché mi hanno chiesto un libro e quindi sto scrivendo questo libro e metto lì delle pillole grazie grazie anche per questo la leadership etica questa è un anche questo è un nuovo concetto che ci dai bellissimo come vedo che masto ci ti ricorda gigi ha affrontato temi delicatissimi al centro degli interessi del terzo settore perché anche questo tu l'hai detto varie volte però il terzo settore è quello che è sostenuto anche in questo periodo perché giustamente abbiamo ringraziato i medici tutti quanti però ha retto il terzo settore ha retto la solidarietà degli italiani e le associazioni ma quello che abbiamo visto nelle città è stato qualcosa di incredibile per come sono andati casa per casa ad aiutare a scovare tutte le fragilità tutte le difficoltà e questo è un bene prezioso che va al di là di ogni cosa di là della politica di qualunque cosa il terzo settore ci ha sostenuto anche in questo periodo difficile è la sussidiarietà sono quelle cellule staminali adulte che silenziosamente ricuciano e tessono no le le ferite purtroppo no ecco non anche qua quanto vale questo lavoro quanto quanto bisognerebbe pagarlo conviene allo stato valorizzarlo e non mettere gli bastoni tra le ruote e lasciarlo correre perché se corre risolve problemi a gratis o conviene allo stato dimenticarlo e vessarlo spesso e volentieri con cavilli burocratici quando invece l'unica cosa che vorrebbe essere messo nelle condizioni di aiutare questa è la grande domanda ma anche la domanda che abbiamo detto dovremmo porci oh ma su 75 miliardi di euro tieni presente che un bilancio sono 30 miliardi di euro grossomodo tu stai mettendo 75 miliardi di euro nelle tasche nelle aziende tutto quanto è sulle teste dei figli perché sono a deficit a deficit tu non metti niente sulle famiglie con figli e tu stai facendo questa operazione libero di farla ma qual è la qual è il ragionamento ok chiarissimo mi piace moltissimo il concetto che tu esprimi quanto vale quando dici il lavoro fatto dal terzo settore ma quanto vale quello che loro hanno fatto così per casa così come pure dici quando l'hai detto riferito alla alla casa tua cioè che fai fai da dentista fai da da d'aiuto scuola d'aiuto tutto quanto vale che non è un concetto merceologico ma è un concetto di valore proprio che non che non viene più dato mi permette giustamente te dici economico anche economico nel senso che poi alla fine l'economia no ha a che fare con la casa cioè la prima l'economia nasce proprio dalla gestione della famiglia oggi è diventata oggi si confonde l'economia con la finanza mentre invece dobbiamo tornare a fare economia la famiglia come direbbe il mio amico vincenzo bassi è la prima impresa è la proto impresa mentre invece noi oggi abbiamo situazioni in base ai quali tu c'hai magari lo sconto per comprarti il il furgone per il lavoro e non c'hai lo sconto no lo sconto diciamo gli interessi in banca non te li danno bassi per comprare il furgone per il lavoro e non ti danno gli stessi interessi per magari comprare una macchina più grande per la tua famiglia ma è un investimento anche quello e in Europa noi non siamo ben visti proprio perché produciamo costi cioè noi in Europa siamo quelli che producono pensioni producono la sanità sempre più a pagamento quindi è normale che per questo io ho detto qualche mese fa invece di andarci a a giocare a dire fateci fare deficit sul verde diciamo fateci fare deficit sul verde quindi anche sulla natalità in modo tale che scompaginiamo un po la stagnazione quindi sei dell'idea che bisognerebbe alzare la voce di più su tutte queste cose perché effettivamente non se ne parla cioè quello che tu stai dicendo questo aiuto che tu dici che bisognerebbe dare alle famiglie cioè ai ai figli questo non c'è nessuno lo dice su questo bisognerebbe aiutarsi a alzare la voce sempre nello stile no uno stile di un certo tipo quindi senza creare problemi perché insomma dobbiamo comunque mantenere la la tensione nella giusta proporzione perché la pandemia ancora è è forte quindi non bisogna essere sovversivi assolutamente però bisogna far far sentire la propria voce noi oggi abbiamo fatto un comunicato forse uno dei più duri da quando sono presidente dove dico proprio questo dico se le famiglie potessero scioperare sciopererebbero oggi solo che io non è che posso smettere di dare da mangiare a un figlio non è che ti vabbè sciopero non ti faccio fare la fisioterapia sciopero oggi non fa i compiti faccio del male a me stesso per questo dico che bisognerebbe considerare la famiglia non come una delle categorie ma il comune denominatore di tutto il sistema io comprendo che le parti sociali ci siano i sindacati e conf industria ma è proprio per questo che mi auspico proprio perché ci sono delle categorie che la famiglia non venga considerata una categoria ma che sia all'interno e dia il respiro a tutte quante le le manovre anche in quest'altro DL mentre invece mi sembra che ne sia uscita eh Gigi stiamo arrivando alla conclusione anche perché per il tempo ehm ci parte che ci chiedono sempre della del terzo settore che gestiscono gli asili nido in Italia nessuno si sta rendendo conto di questo che noi abbiamo anche a Milano abbiamo questo problema degli asili nido che 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 non sono sovvenzionati anzi che gli hanno sì che gli hanno tolto le sovvenzioni e li costringono a pagare quindi cioè è un cortocircuito totale questo anche perché l'asilo nido vive e viverà un problema enorme che era quello della natalità anche i nidi privati se crollano quello è finita che ti devo dire io io più che che fare da pungolo per darmi flash mob in giro per l'Italia che andare in tutte le trasmissioni che cercare di incontrare il presidente Conte riuscire a incontrarlo dirgli come la pensiamo insistere più di questo veramente non se tu vai a domandare ai ministri tutti dice ma c'è qualcuno che in questo periodo di pandemia vi rompe le scatole non ho dubbio che ti risponderanno Gigi De Palo perché ormai la politica si fa su whatsapp io con molta educazione però cerco di farli ragionare cerco di fare da pungolo va bene grazie dici allora stiamo arrivando alla conclusione e qualche ultimo messaggio sulla speranza sulla su cosa poni tu la speranza appunto per questo per il futuro nostro delle nostre famiglie allora io dico che sto dicendo dei messaggi molto belli perché tutti pensavano le famiglie crollano aumentano le separazioni aumentano i divorzi posto che sicuramente si litiga perché sta più a casa quindi c'è anche più ne sono testimone diretto quindi è normale e posto che ci sono sicuramente delle situazioni che devono essere chiaramente gestite perché laddove c'è una violenza in casa non deve esistere questo quindi non sto parlando di questo però mi permetto di dire che sto ricevendo messaggi stupendi di famiglie che dicono ma lo sai che non è così male stare con mia moglie ma lo sai che non è così male stare con mio marito ma lo sai che alla fine guardare un film in più con i figli giocare con i lego è qualcosa che mi fa lavorare anche meglio allora prima di tutto io dico che questa pandemia ci ha portato questa consapevolezza e non dobbiamo perderla che non vuol dire non dobbiamo più uscire di casa no ma che forse possiamo stare più a casa perché le relazioni sono importanti anche e soprattutto quelle vicine un'altra cosa che io dico molto bella è questo discorso dell'ambiente mi sembra cioè ho visto delle immagini di venezia dove si vede l'acqua col trasparente delle immagini di camosci nel giro delle città italiane ecco in questo senso non torniamo indietro cioè non vuol dire smettere di vivere come facevamo prima però non torniamo indietro perché è un bel segnale non è un segnale brutto per il resto poi io non di mia natura non sono pessimista non è detto che i cambiamenti siano per forza negativi l'auspicio è quello appunto che dal punto di vista economico si riesca a tenere botta e a uscirne diciamo con più fantasia ecco mi preoccupa il turismo perché il turismo ecco lì non sarà facile riprendere flussi come come c'erano no? Cioè si vorrà un po' di tempo e sempre una delle cose più importanti del nostro paese questo aspetto un pochino mi preoccupa però per il resto coraggio va bene coraggio grazie Gigi ci scrive credo che sono tua amica un incontro in cui ci hai raccontato tanto di te chi è? Patrizia Patrizia che dipende dal cognome a Misano alla grande che hai raccontato tanto di te ecco questo questo è credo che sia importantissimo se dicevamo all'inizio di Giovanni Paolo secondo se la famiglia va va anche la nazione va al mondo intero in cui viviamo tu ce l'hai testimoniato in maniera spettacolare mettendo al centro la persona le famiglie i bambini gli anziani i disabili credo che la speranza riparta da questa nuova e forte centralità ci dovevamo passare anche da questa sventura però ci siamo anche ritornati a riguardare in faccia ognuno e raccontarci appunto queste cose questo è lo spirito con cui abbiamo fatto queste iniziative con il quale vogliamo appunto andare avanti grazie Gigi di tutto veramente e come ti sei messo insieme a noi grazie a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti